Amici, buongiorno, buon lunedì. Oggi sono un po' triste perché sto togliendo tutti gli addobbi di Natale. Ho già iniziato a togliere pure il serpentone dell'albero. Ma anche un po' felice perché riordinare, rimettere a posto mi aiuta un po' a liberare la mente, mi alleggerisce, mi ricarica. E voi siete più tristi o più felici? Ma soprattutto avete già smontato l'albero? L'unica che è sempre con me, nel bene e nel male. Quindi anche nel riordino è solo lei. Dilezza, amore di mamma! E lei sempre con la sua mamma, sempre con la sua mamma! Prima di rimettermi al lavoro, volevo anche dirvi che invece la mia cucina è già stata completamente ripristinata ed è pronta per nuove ricette. Cosa volete che vi prepari? Fatemelo sapere. E io adesso vado a smontare l'albero. A dopo.